Il manuale che è stato realizzato sia assolutamente importante, le imprese italiane hanno solo che da godagnare dall'engagement sui temi della responsabilità di impresa, la responsabilità ambientale e sociale di governance, perché alla fine è un modo per far sì che gli investitori si impegnino sul lungo periodo con le imprese ed è un modo anche per mettersi in condizione di poter sopportare meglio le eventuali crisi che possono avvenire da cambiamenti ambientali o sociali nel futuro. Quindi credo che l'engagement su questi temi sia veramente il futuro delle imprese quotate in Italia.